Davide Peitoni, 40 anni, in carcere per aver ucciso il figlio di 7 anni il primo gennaio scorso, si è suicidato. Lo confermano fonti della procura di Varese. Il 6 luglio gli era stato notificato l'avviso di conclusione indagini in relazione all'omicidio del figlio e domani era fissata la discussione con giudizio abbreviato nel procedimento per tentato omicidio di un collega di lavoro, invece il Davide Peitoni, accusato di aver ucciso il figlio Daniele di 7 anni a Morazzone il primo gennaio scorso. Si è suicidato nella sua cella nel carcere di San Vittore. Lo spiega in una nota il procuratore di Varese Daniela Borgonovo. Del caso del suicidio è stato informato il PM di turno di Milano Stefano Amendola, che nell'ambito di un fascicolo, la cui apertura è scontata in questi casi, ha disposto i primi accertamenti, che vanno dai rilievi della scientifica al sequestro della cella e degli effetti personali del detenuto, fino all'autopsia sul cadavere. Daniele aveva 7 anni, i carabinieri lo hanno ritrovato sgozzato. Nascosto in un armadio, ucciso dal padre con una coltellata alla gola. Sul corpo del piccolo hanno trovato un biglietto di confessioni, le stesse affidate a un messaggio vocale inviato al padre anziano, per avvisarlo di l'aver fatto del male a Daniele e soprattutto di non guardare nell'armadio. Il bambino aveva trascorso il capodanno con il padre che si stava separando dalla moglie. I tre non vivevano più insieme. Paitoni era accusato anche di aver tentato di ammazzare la moglie, dalla quale si stava separando.